E' come si chiama il dio dei giocattoli? E' come si chiama? Flitter! E' come lo chiama? Con la bocca! Eh si, ma come? Così! Flitter! 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 Bandini, ciao a tutti! Ciao! Ciao bambini! Ciao! Io sono un giocattolo, un giocattolo importantissimo, un giocattolo ricchissimo! Quanto costerò secondo voi? Quanto costo? Quanto? 100 euro! Flitter! 100 euro! Scusate! Che bambola! Bambini! 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 Io costo solo 3.000 euro! Ehi! 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 Bambini! Chi è che mi vuol comprare? Chi mi vuol comprare? Chi mi vuol comprare? Sì! Anzi la mano! Sì! Sì! Ok! 3.000 euro! Ma questi non sono 3.000 euro! Bambini, bambini, bambini! 3.000 euro! Con comode latino 2.999 euro! Chi mi vuole? dica sì allora viva se cantiamo una canzone insieme siete sicuri e allora fai maestro Greta devo leggere e questa canzone è una delle tante canzone che io ho e fa così sulle manine grazie E io invece sono Flitter, sono uno dei personaggi di questo spettacolo e sono il giocattolo, quello ricco, quello che praticamente non si unisce a tutti gli altri giocattoli. Io sto solamente in mezzo ai bambini, in mezzo al pubblico e cerco così, come dire, di far rivivere, rinascere e fare in modo che gli altri giocattoli abbiano quello che vogliono. Ma in realtà questo non succede, perché io cosa faccio? Praticamente do tutto quello che a loro non serve. Quindi insomma rimango sempre il giocattolo ricco e tra le tante cose che faccio poi cerco di vendere anche il mio ultimo disco, il mio ultimo CD che è Flitter. Quindi ho buon divertimento. Grazie.